Si è appena conclusa la seduta di rifinitura a Torre del Grifo, un Catania pronto per l'esordio stagionale domani contro il San Nicolò Notaresco alle 19, gara valevole per il primo turno della Coppa Italia 2020-2021. Mister Raffaella, innanzitutto le sensazioni relative al ritiro, al lungo precampionato e alla vigilia di questo esordio sulla panchia del vostro gioco? Sicuramente è importante per noi cominciare a giocare, quindi sarà intanto un rompere anche il ghiaccio perché purtroppo quest'anno è stato un precampionato stranissimo e quindi non vediamo l'ora di andare in campo, soprattutto per trovare di nuovo quella verva agonistica, quella adrenalina che poi sarà importante da portare in campionato. Ripeto, è stato un precampionato strano, difficile da alcuni punti di vista, abbiamo cercato di portare al meglio tutto il volume di lavoro e quindi adesso giochiamo e vedremo già sia le cose che abbiamo portato avanti, anche le problematiche dell'inizio del campionato come ogni anno, in particolare ripeto quest'anno perché non abbiamo dovuto testare con gli allenamenti, con le amichevoli scusate. Sono arrivate tantissime domande da parte dei giornalisti, una riguardava proprio il tema delle amichevoli, lei è più volte sottolineato come il Catania si sia trovato anche nell'impossibilità di organizzarne e quindi questo sarà il primo test reale al di là delle partitelle giocate in famiglia. Quali risposte si attende alla squadra? No, ma adesso voglio vedere naturalmente a che punto siamo anche a livello sia individuale che generale con parecchi giocatori perché ripeto è stato un precampionato difficile per il Catania ma per quasi tutte le squadre come si vede, soprattutto della Serie C, frastagliato con arrivi diciamo di giocatori in tempi diversi e quindi dobbiamo cercare anche, dobbiamo essere bravi ad avere la pazienza e la bravura di portarli in campionato anche con i tempi giusti, quindi può essere che ci sia una condizione di forma diversa anche fra i giocatori stessi, quindi per i tempi in cui si è lavorato insieme. Quindi vediamo, c'è un po' di curiosità, ripeto è un precampionato diverso ma l'obiettivo è per noi di arrivare al campionato, di sfruttare questa partita e di arrivare al campionato già almeno avendo un buon minutaggio dentro la squadra. È normale che a livello globale c'è un po' di curiosità. In Coppa Italia si sa non sono sempre comunque immediatamente disponibili i nuovi acquisti e allora ne approfittiamo per ragioni proprio burocratiche relative al tesseramento e allora ne approfittiamo per tracciare un quadro dei sicuri indisponibili in vista della gara di domani fermo restando di quella situazione in evoluzione proprio fino al fischio di inizio. Sicuramente disponibile Pinto, Silvestri che recidio di squalifica, qualche altro giocatore che non è al meglio della condizione, qualcuno da valutare durante anche la partita per i minuti che può avere perché si è aggregato il ritardo e quindi dobbiamo essere bravi a dargli minuti ma allo stesso tempo a pensare che comincia anche il campionato quindi dobbiamo gestire alcune situazioni, in questo ci aiutano le 5 sostituzioni. Quindi vedremo domani con calma tranne quelle 3-4 situazioni che già sappiamo il resto come andare a mettere la migliore formazione anche nel momento e soprattutto di cercare, ripeto, di dare minuti a più giocatori. Ci sono numerose domande che si riferiscono sia al mercato sia ai singoli ed è chiaro che questa non è evidentemente la sede poi per rispondere alle domande anche perché sono veramente tantissime però possiamo fare un quadro generale. C'è qualche giocatore che l'ha sorpresa positivamente sul piano anche delle risposte atletiche? No, la squadra ha lavorato bene, ha lavorato sempre con voglia, non voglio ripetermi ma è così purtroppo non avendo la possibilità ma noi, ripeto, come tantissime altre squadre di effettuare veri e propri amichevoli e vedere determinate cose viene più difficile soltanto negli allenamenti però la squadra ha lavorato bene quindi i ragazzi hanno lavorato bene, più che altro la problematica è che parecchi giocatori si sono aggregati con tempi diversi quindi, ripeto, trovare in maniera omogenea il gruppo in questo momento è un po' difficile anche se con lo staff e con i ragazzi stiamo cercando di fare il meglio per cercare di portare la squadra nelle migliori condizioni possibili a questo inizio di campionato che per noi è fondamentale l'inizio del campionato. 3-5-2, 3-4-3, quali e quanti moduli ha provato? Questa è una domanda ricorrente da parte di voi. Sicuramente ci siamo soffermati molto sui concetti della squadra, di cercare di lavorare in una determinata maniera, sapete benissimo che abbiamo avuto delle difficoltà a completare un determinato reparto e quindi il fatto della difesa a tre sicuramente abbiamo dato concetti, è pure vero che secondo me per raggiungere ancora il massimo dell'espressione della squadra abbiamo bisogno di rifinire qualcosa nel reparto arretrato. Negli ultimi giorni ho letto di segnali incoraggianti per l'apertura degli stati e spero che succeda, che sia anche ora per noi giocare partiti ufficiali sapendo di avere il pubblico con noi, io spero addirittura nell'apertura totale, penso che sia la cosa più sensata con le dute precauzioni, con le dute caudere di poter sfruttare nel miglior modo possibile gli stati, perché poi il calcio è della gente, il calcio fatto senza colore, senza pubblico è assolutamente limitativo anche per noi che siamo protagonisti, quindi mi auguro che questo succeda e poi come ho detto già anche in precedenza, in qualche altra conferenza, essere allenatore catania e non poter vedere lo spettacolo nel nostro stadio non mi lascia contento, quindi spero che al più presto possibile possiamo tutti insieme partecipare per ottenere poi quello che vogliamo, c'è i tre punti ogni domenica. Grazie mister Raffaele, buona serata e forza Catania! Forza Catania! Forza Catania!